ciao benvenuto sul canale didattica innovativa di prof reddler è vero con l'avvento di chat gpt la didattica potrebbe cambiare radicalmente perché questa è in grado non soltanto di risolvere problemi scientifici ma anche di produrre testi molti docenti si stanno chiedendo che senso ha assegnare compiti a casa e poi è possibile farli con chat gpt e alcuni hanno già trovato la soluzione quindi fare esercitazioni in classe e magari dare un video o una lezione da studiare a casa come nella metodologia didattica della flip the classroom ma sapevi che open ai la software house che ha creato chat gpt ha anche creato uno strumento per verificare se i testi sono stati scritti con intelligenza artificiale l'app ti chiama ai text classifier vediamo come funziona come prima cosa andiamo su chat punto open ai puntocom ossia chat gpt e iniziamo una chat come video ne ho parecchie ad esempio prendo questa in cui ho chiesto a chat gpt di scrivere una storia di fantascienza e preparare anche un quiz risposta multipla su di essa poiché ai text classifier lo strumento che ti farò vedere tra poco vuole che il testo sia almeno di mille caratteri allora ho chiesto a chat gpt di riscriverla e di allungarla un po ecco qua adesso possiamo prendere questo testo copiarlo andare su ai text classifier e incollarlo indirizzo è platform punto open ai puntocom slash ai trattino text trattino classifier qui puoi leggere come funziona e quali sono le limitazioni corrente ma ho scritto tutto nell'articolo provi sia link che alle piattaforme che all'articolo nella descrizione del video una volta che ha incollato il testo ti basterà cliccare submit come vedi classifier considera che il testo è possibilmente scritto da una intelligenza artificiale allora i livelli sono very unlikely unlikely unclear if it is possibili or likely scritto da intelligenza artificiale nel nostro caso era possibili quindi rivediamo incolliamo il testo e facciamo submit possiamo anche provare a cambiare qualcosa a causa dello smonato sviluppo industriale ora ovviamente più modifichiamo più sarà difficile per il modello capire se il testo è scritto da intelligenza artificiale o meno proviamo a fare submit il risultato non dovrebbe cambiare e infatti mi dice sempre che è possibile che sia stato generato da un'intelligenza artificiale invito te e i tuoi studenti a provare a sperimentare questo strumento per verificare fin dove riesce a capire se il testo è stato scritto da un'intelligenza artificiale ma leggi anche bene tutte le limitazioni e non soltanto i mille caratteri il fatto che non sempre è accurato e a volte quindi può sbagliare soprattutto per testi non in inglese visto che la maggior parte dei testi su cui il modello è stato addestrato sono in inglese anche molti testi presi da wikipedia tra l'altro leggi anche le frequente le ask question ea ea stai curioso di capire come c'è come open ai sta affrontando il problema dell'uso di chat gpt nell'education c'è una pagina dedicata che si chiama proprio chat gpt trattino education bene mi raccomando prova il tool fammi sapere come cosa ne pensi e se ha funzionato bene con le prove che hai fatto in classe o da solo al prossimo video ciao 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 ciao